L'allenamento con resistenza L'ossatura mineralizzandola prevenendo così patologie come le osteoporosi Una malattia molto comune nelle donne in menopausa Che causa loro fragilità ossea Il movimento può essere fatto sia a corpo libero che utilizzando il peso corporeo Oppure utilizzando elastici ma soprattutto manubri che riescono ad apportare il giusto sovraccarico Senza portare a complicazioni Ricorda però è fondamentale utilizzare una giusta tecnica di respirazione Poiché deve essere coordinata al movimento Spesso alcuni miei clienti ad esempio durante l'esecuzione Non si rendono conto e arrivano a bloccare il proprio respiro Il mio consiglio è solido Affidati ad un personal trainer se hai bisogno di rimetterti in forma Troverai esercizi specifici per il tuo allenamento E ricorda il segreto per il tuo successo sta nell'iniziare Ciao